Circa otto giorni fa è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale della serie di Ahsoka che ci conferma ufficialmente che la data di pubblicazione sarà il 23 agosto. Oltre ad avermi messo ancora più hype di quello che ho, di quanto non ne abbia mai avuto, sono state diffuse anche altre immagini online che ci hanno mostrato le seguenti cose. Questa foto che ritrae Ahsoka e Sabine, che vediamo essere molto simile alla scena che abbiamo visto nel finale di Rebels, solo che cambiano i colori sia del vestito di Ahsoka che i colori dell'armatura di Sabine, e quindi probabilmente sarà una scena completamente diversa ma simile a quest'ultima, magari ambientata prima o dopo il finale di Rebels. L'altra immagine che ci è stata mostrata è stata un'immagine completa dell'inquisitrice o inquisitore che comparirà in questa serie dato che il sesso non è stato ancora specificato e questo look completo ci conferma attualmente che non si tratta affatto dall'ottavo fratello che abbiamo visto già in Rebels, ma sono due personaggi completamente diversi.